Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto al cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro. Noi proprio di San Pietro parliamo oggi perché c'è un'iniziativa che è iniziata e che domani un appuntamento importante, quella della Lectio Petri, la lezione di Pietro. Però la prima lezione ce la facciamo fare dal Papa Francesco in un angelo su di un po' di tempo fa a commento dell'episodio raccontato nel Vangelo di Matteo, il riconoscimento del Cristo in Gesù da parte di Pietro che gli vale sostanzialmente la responsabilità di essere la pietra su cui Gesù fonda la Chiesa. Ascoltiamo il Papa. Gesù pone ai discepoli la domanda che gli sta più a cuore, cioè chiede loro direttamente «Ma voi, chi dite che io sia?» Il Maestro aspetta dai Suoi una risposta alta ed altra rispetto a quella dell'opinione pubblica. E in effetti proprio una tale risposta scaturisce dal cuore di Simone detto Pietro. «Tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente». Simon Pietro si ritrova sulle labbra parole più grandi di lui, parole che non vengano delle sue capacità naturali, ma sono parole ispirate dal Padre Celeste, il quale rivela al primo dei dodici la vera identità di Gesù. Egli è il Messia, il figlio inviato da Dio per salvare l'umanità. E da quella risposta Gesù capisce che grazie alla fede donata dal Padre c'è un fondamento solido su cui può costruire la sua comunità, la sua Chiesa. Perciò dice a Simone «Tu, Simone, sei Pietro, cioè pietra, roccia, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Pietro in fondo ha uno strano destino, perché è la pietra su cui Gesù fonda la sua Chiesa, è un destino in qualche modo di gloria, anche se poi naturalmente la gloria della croce. E però ogni volta che si parla di Pietro si parla anche del limite, l'ha fatto anche Papa Francesco, dice parole più grandi di lui che gli vengono donate. E voi con la Fondazione Fratelli Tutti, di cui lei è Presidente, e insieme al Cortile dei Gentili, avete preso l'iniziativa di quattro lezioni di Pietro. Perché? Domani c'è la prossima appuntamento, 18.30, Basilica di San Pietro, ma ne parleremo poi. C'è un po' di pubblicità. Abbiamo preso questa iniziativa dentro a un orizzonte, che è quello che cerchiamo piano piano di proporre insieme ad altri soggetti che animano la Basilica di San Pietro, come il Capitolo Vaticano, la fabbrica di San Pietro, la parrocchia di San Pietro. L'orizzonte è quello di una riscoperta, potremmo dire così, della figura di Pietro. Perché sentiamo che è di una enorme attualità. Proprio questo aspetto che richiamavi, cioè di questo limite che continuamente emerge, è presente e avvicina tantissimo Pietro ai nostri tempi, dove evidentemente l'umanità mostra anche tutte le sue fragilità, i suoi limiti, la destrutturazione ormai in corso della persona, della personalità e anche della società. Ci sono i contenitori dell'affettività che vengono sempre più, in qualche modo, sciolti. In questo modo vengono fuori tutte le debolezze umane. E in questo io personalmente, ma ecco, dicevo con i miei collaboratori, siamo convinti che Pietro abbia veramente qualcosa da dirci, da suggerirci e avvicini moltissimo, sia facilmente avvicinabile ai nostri giorni da tutti. E per questo abbiamo pensato a diverse iniziative, tra cui questa qui, in collaborazione appunto col Cardinal Ravasi e con il Cortile dei Gentili, abbiamo pensato di andare alla riscoperta attraverso un itinerario che cerca di mettere a fuoco alcuni aspetti, chiaramente, della figura di Pietro. Ma siamo all'inizio, pensiamo poi di svilupparlo nel corso degli anni, questo è soltanto l'avvio. Quattro incontri. Nel primo avete sostanzialmente raccontato un po' una presentazione, credo, della figura. Nella seconda invece avete riflettuto proprio sul brano che abbiamo ascoltato, l'Omelia, abbiamo ascoltato noi, su questa pietra edificherò la mia chiesa. E avete riflettuto anche sul ruolo del primato petrino. Quindi avete parlato anche del significato di avere un Papa? Sì, abbiamo parlato da diversi punti di vista, non solo quello cattolico, ma anche quello protestante, dell'anima protestante, tra le confessioni cristiane, e quello ortodosso. Perché anche non lo facciamo questo itinerario solo pensando di avvicinare le persone anche lontane, magari dalla fede, dal cammino cristiano, ma lo facciamo anche per cercare di capire meglio la nostra fede, capire meglio anche la chiesa. Anche dialogando con laici. Certo, dialogando con laici. Domani sera ci sarà Giuliano Amato, il professore, per dare un contributo, anche da un punto di vista laico, lo sguardo portato su Pietro e su quel ministero che gli è stato affidato, così singolare chiaramente. E appunto, forse abbiamo bisogno di comprendere meglio anche il ruolo, il ministero, il carisma, di cui è custode Pietro e i suoi successori con lui. E tra l'altro ricordiamo anche il racconto per immagini proiettato sulla facciata della Basilica di San Pietro, ma attorno a San Pietro, alla fabbrica di San Pietro, state facendo tante cose. È iniziata anche una scuola per artisti, sostanzialmente, promossa dalla fabbrica di San Pietro. Che cos'è? Arti e mestieri. Più che artisti sono gli artigiani, direi, della bellezza, potremmo dire così. Perché il complesso monumentale della Basilica di San Pietro, come tante delle nostre chiese e dei nostri monumenti, custodiscono un patrimonio preziosissimo, non soltanto di arte tecnica, ma anche di spiritualità. E allora il desiderio di, sostanzialmente, di trasmettere un sapere che è impastato di una dimensione anche spirituale e anche umana, di relazione, di comunità, di comunione, è impastato di questo e poi ha nella manualità una professionalità che appunto poi spinge verso l'arte, verso l'espressione, direi, più alta anche forse della nostra umanità. Ebbene, vorremmo trasmettere questo sapere così rotondo, vorremmo trasmetterlo alle nuove generazioni, pensando che sia anche questo, questo sapere, una perla, direi una eredità che abbiamo e che va messa in gioco perché non soltanto, ovviamente, intorno a San Pietro, ma nel mondo. Adesso è una piccolissima cosa questa, ma vorrebbe essere l'avvio, anche qui, di un processo, pensando che nel tempo si possa sviluppare anche nei numeri, ma anche nella diffusione. Insomma, la trasmissione della fede passa anche attraverso l'artigianato, la bellezza, gli incontri, i rapporti umani, naturalmente. Passa anche da lì, anche perché se non ci fossero, adesso sono chiamati San Pietrini, i dipendenti della fabbrica, che da quando l'hanno costruita, l'hanno poi manutentata e ce l'hanno in qualche modo consegnata e ancora continuano a custodirla, se non ci fossero loro probabilmente non avremmo la possibilità oggi di celebrare a San Pietro, di vedere questo capolavoro. E quelle opere che il genio della spiritualità, in questo caso proprio cristiana, ha saputo produrre. Fin qui, con l'Elexio Petri, avete raccontato quello che è scritto di Pietro nei Vangeli. Domani, alle 18.30, nella Basilica di San Pietro, invece affrontate il Pietro autore della Prima Lettera di Pietro. Dove forse c'è l'espressione più celebre dette dal Primo Apostolo, vale a dire dare ragione della speranza che è in noi. Sentiamo prima Papa Francesco, poi ne parliamo. Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo sia all'interno della comunità cristiana sia al di fuori di essa. Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare che si renda visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi. Questo significa che il Signore Gesù deve diventare sempre di più il nostro modello, modello di vita, e che noi dobbiamo imparare a comportarci come Lui si è comportato. Fare lo stesso che faceva Gesù. Ecco perché San Pietro afferma che è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Non vuol dire che è bene soffrire, ma che quando soffriamo per il bene, siamo in comunione con il Signore, il quale ha accettato di patire e di essere messo in croce per la nostra salvezza. Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della nostra vita, accettiamo di soffrire per il bene è come se spargessimo attorno di noi semi di resurrezione, semi di vita, e facessimo risplendere nell'oscurità la luce della Pasqua. Qual è la lezione di Pietro sul dare ragione della speranza? Perché è un'espressione che rimanda immediatamente all'intelletto, alla mente, dare ragione. Eppure Papa Francesco ne parla come un'esperienza prima di tutto del cuore. Sono chiarissime le parole di Papa Francesco e credo che abbia davvero messo a fuoco qual è il tema che anche noi vorremmo domani in qualche modo sviluppare. In fin dei conti si dà ragione, ecco, l'espressione rimanda immediatamente a qualcosa di intellettuale, ma in realtà si dà ragione attraverso la testimonianza della vita. E quello che fa Pietro è questo, soprattutto con la testimonianza della vita. Io sono colpito tanto da questo primato che viene affidato a Pietro attraverso prima le parole che Gesù gli rivolge, dopo che lui confessa la sua fede. Sono sempre rimasto molto colpito perché è possibile, soltanto se viene ispirata un'espressione come quella sulle labbra di Pietro, che mai era stata detta, bisogna... Solo se è ispirata. Ma come mai è ispirata proprio in questo uomo? E prima dicevamo di questo suo limite. Ecco, io credo che sia legato a questo. Cioè Pietro non nasconde nulla della sua umanità, nei suoi slanci, come nelle sue cadute. Credo che lui abbia detto alcune cose che poi sono raccontate nei Vangeli e che non gli fanno fare una gran bella figura. Pietro è così, proprio autentico fino in fondo. E questo qui dà la possibilità a lui di stupirsi, di stupirsi davanti a Gesù. E lo stupore è l'incipit perché possa sgorgare la fede. La capacità di stupirsi. Prima ancora di dare un'adesione ad una verità, dare un'adesione anche a qualcuno anzi, prima c'è questa capacità. Ebbene, dentro a questo stupore credo che sorga questa ispirazione. Ci sia lo spazio perché l'ispirazione prenda corpo e lui dica quelle cose. Ebbene, io immagino che Pietro abbia continuato nella sua vita questo dinamismo a renderlo sempre più concreto, farlo diventare sempre più carne, fino a che si può dire che lui muore come Gesù a testa in giù. Per non... così la tradizione vuole, no? Il crocifisso a testa in giù. Ma sostanzialmente nel morire come Gesù sta dicendo che la sua umanità è diventata come quella di Gesù. e questo qui rende ragione della speranza che è in lui. Cioè che ciò che... è come... quella speranza lì è come quella di chi dà una possibilità all'impossibile. E cioè che la propria umanità diventi come quella di Gesù. E qual è la lezione di Pietro sulla sofferenza? Perché prima ricordava appunto la tradizione che lo vuole il crocifisso a testa in giù perché non si sentiva degno di morire come Gesù. Quindi affrontare la sofferenza con coraggio. Però Pietro tutto è tranne che uno che possiamo considerare un alfiere coraggioso della sofferenza impavido. Insomma è quello che tradisce e poi piange. Quindi ha un rapporto appunto molto umano con la sofferenza. Pietro ha paura. Ha paura come tutti di soffrire, di essere in quel caso incarcerato col suo maestro. a paura e al contempo perché c'è anche qui nella tradizione un episodio bellissimo quello del Quo Vadis che qui testimonianza è custodita qui a Roma. E a proposito tal proposito stiamo con il vicariato di Roma con la Diocesi stiamo facendo un percorso sui luoghi che a Roma custodiscono le testimonianze di Pietro. E tra questi appunto il Quo Vadis. A me colpisce molto questo così questa memoria che viene lì conservata perché narra un apocrifo e la tradizione vuole che sia così narra che Pietro siccome stava imperversando la persecuzione a Roma con Nerone Pietro inizia a prendere la via della fuga per andarsene lontano da Roma e mentre è in cammino gli viene incontro Gesù incontra il risorto di nuovo che sta andando nella direzione opposta e lui gli dice ma dove vai? Come dire guarda che di là e Gesù che gli dice torno a farmi crocifiggere e allora Pietro segue il maestro e questo è il punto cioè ha paura come tutti e ha bisogno di convertirsi come tutti esatto sceglie continuamente anche attraverso appunto quelle cioè lui tocca con mano tutta quello che nell'umano anche è inconsistente ebbene dentro a quello lui sceglie di seguire Gesù e l'andare dietro a Gesù questo è il come dire il volto di quella di quella sofferenza che lui abbraccia a questo a questo volto a questo diciamo a questa ragione ecco a questo motivo ispiratore altrimenti non l'avrebbe non l'avrebbe mai fatto anche ieri Papa Francesco ha parlato era la Domenica della Parola indirettamente di di San Pietro l'ha fatto parlando appunto della chiamata di Pietro quando Gesù gli dice seguitemi vi farò pescatori di uomini Papa Francesco commentando questo brano ci ha tenuto a sottolineare che non è come sembra vale a dire vi farò pescatori di uomini sembrerebbe l'immagine l'icona del proselitismo venite qua entrate in chiesa fatevi preti missionari non lo so invece dice che non è così perché credo lui ieri ha fatto un accenno a questo anche al motivo per cui non ritiene che sia questo ma io rafforzerei proprio quel concetto che il Papa diceva cioè lui in relazione alla pesca ha messo la parola di Dio che è quella che pesca che pesca nel senso che avvicina l'uomo al verbo al verbo della vita ebbene i discepoli gli apostoli attraverso attraverso la bocca di Giovanni evangelista che nella prima lettera inizia dicendo quello che noi abbiamo visto quello che noi abbiamo udito quello che noi abbiamo toccato del verbo della vita noi lo annunciamo anche voi ebbene proprio il contesto anche del brano di ieri rimandava a questo cioè Gesù che inizia ad annunciare il regno dice convertitevi perché il regno dei cieli è vicino cioè si è fatto prossimo a voi lo potete toccare toccare nella mia persona questo ebbene i pescatori a cui fa riferimento poi dopo il Vangelo che il Santo Padre richiamava sono quelli in questo caso che rendono visibile o meglio toccabile ancora il verbo della vita cioè questa parola che ci ha raggiunto in Gesù che prende carne ed è questo il punto decisivo chi aderisce a Gesù chi segue Gesù poi diventa a sua volta un uomo capace di prolungare nel tempo il corpo di Cristo infatti il Papa ha usato il verbo centrale insomma era proprio toccare come lasciarsi toccare ma anche toccare la carne sofferente eppure questi verbi così carnali tante volte non sono presenti nel nostro vocabolario nelle omelie dominicali sembra sempre come dire di una sorta di esperienza solo spiritualista quello è un rischio ma di per sé la spiritualità autentica è concreta non c'è divisione da questo punto di vista quando un uomo è davvero spirituale pieno dello spirito ma è immerso concretamente nella storia nella realtà per questo tocca e si lascia toccare Gesù è così Gesù è cioè Gesù è la divinità che prende l'umano cioè che assume l'umano e noi i pescatori dovrebbero predicare l'umanità di Dio l'umanità divina questo come fanno a predicarla soltanto se la loro umanità assume piano piano seguendo Gesù seguendo l'agnello ovunque vada anche nella sofferenza ovunque si trova seguendo lui ecco possono in qualche modo predicare la sua umanità Pietro mi sembra proprio un'icona perfetta anche mi veniva in mente l'episodio dell'ultima scena quando lui non vuole farsi lavare soltanto i pietri ma anche il capo e prende uno dei tanti rimproveri di Gesù insomma di cui è pieno il Vangelo esatto esatto è così Pietro per questo sentiamo che veramente è di un'attualità straordinaria per la Chiesa ma anche per il mondo e allora domani alle 18.30 nella Basilica grazie davvero grazie a voi noi ci rivediamo un po' prima delle 18.30 domani come sempre alle 17.30 quando finisce la trasmissione poi potete andare a San Pietro buona serata buona serata Grazie a tutti.